Primo impegno nel girone di ritorno per la Turris che affronterà domenica alle 17.30 l'Avellino. Le due squadre si sono affrontate solamente poche settimane fa al Partenio, a caso del rivio resosi necessario dopo che il capologo Irpino fu colpito da un forte temporale proprio il giorno dell'esordio delle due formazioni in campionato. I Corrallini, redduci da un girone di andata che è andato ben oltre le migliori aspettative, chiuso con un ottavo posto più che l'Usinghiero per una neopromossa, vengono dal pareggio interno contro la Vibonese, che comunque mantiene aperta una striscia positiva aperta ormai da cinque partite. I biancoverdi invece hanno vinto l'ultimo match disputato contro la Cavese, hissandosi al terzo posto in classifica, e stanno dando vita a un bel duello per il secondo posto con il Bari, dietro alla lanciatissima Ternana. La squadra di Fabiano punterà in questa seconda parte di campionato a confermarsi come grande sorpresa del torneo, cercando di mantenere a debita a distanza la zona play-out, iniziando ad accimolare punti anche sul proprio campo, visto che finora si è registrato un rendimento migliore lontano da Torre del Greco. E poi, chissà, fare un pensiero concreto anche ai play-off.